Io le donne le faccio venire anche solo con il petting. A fare questa rivelazione ho te Alberto Mersetti, il tarzan della casa del grande fratello. Mersetti si vanta così delle proprie prestazioni sessuali. Ah io una donna la faccio venire solo con il petting, vo' giuro, solo con il petting. Il tutto tra le risate degli interlocutori. Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, coglie subito la palla al balzo e rivela, non sapete ieri notte cosa ha detto, non mi fidanzo perché non trovo una bella come me. Se trovassi una me al femminile la sposerei subito. Lucia Orazio e Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, prova a dirgli di non esagerare. Lucia Bramieri invece lo rimprovera, moderati, siamo ancora in fascia protetta. Alessia addirittura lo avverte, e basta, ti nomino la prossima volta.